In questo numero del Tg lavoro e welfare, più strade per aumentare i salari, disoccupazione in calo nel secondo trimestre, le imprese giovanili crescono di più delle over 35. Un caro saluto a tutte e a tutti. Oggi vogliamo parlare di legge di bilancio. Il percorso nei fatti è già iniziato, anche se il tempo necessario scadrà alla fine dell'anno. Sappiamo qual è la complessità dell'iter parlamentare. Intanto ci siamo ormai resi conto tutti che per una serie di circostanze le risorse che verranno messe a disposizione, lo ha detto con chiarezza al ministro Giorgetti, saranno abbastanza risicate. Questo comporta il fatto che una parte significativa delle promesse elettorali non potrà essere mantenuta. Noi vorremmo concentrarci su un punto che sta a cuore al governo, oltre che all'insieme dei partiti e agli italiani in generale. Ed è quello del potere d'acquisto delle retribuzioni. Ormai tutti sono convinti che l'Italia ha salari troppo bassi. Naturalmente si tratta anche qui di distinguere settore da settore. Migliori salari li troviamo nella manifattura. penso al contratto dei metalmeccanici che è sicuramente al di sopra, per quanto riguarda il salario minimo, di quella soglia simbolica ormai dei 9 euro lordi all'ora. Così non è in altri settori come quelli dei servizi, della ristorazione, dell'alberghiero, dei lavori ovviamente di carattere stagionale. Quindi abbiamo anche qui delle diversità. Come intervenire? Intanto io credo che il primo punto sia quello di dare più forza alla contrattazione che in Italia copre la gran parte dei lavoratori, ben al di sopra della media stabilita dall'Unione Europea dell'80%. Vuol dire ad esempio legare gli incentivi fiscali ai contratti che si rinnovano alla scadenza naturale, perché è evidente che un contratto di durata triennale, se viene rinnovato dopo 6, 7, 8 anni fa perdere il potere d'acquisto alle retribuzioni. Come legare la fiscalità alle scadenze, ad esempio detassando i nuovi aumenti contrattuali, detassando le tredicesime dei lavoratori. Il secondo punto è quello relativo al cuneo fiscale. Il governo insiste, giustamente noi siamo d'accordo, per rinnovare, perché scade al 31 dicembre, questa detassazione che fa diminuire la pressione fiscale sulle buste paga e aumenta il netto in busta paga. Il governo però dice una cosa sbagliata, vogliamo con l'intervento sul cuneo fiscale nel 2024 aumentare il potere d'acquisto. Se si mantengono i sette punti attuali non si aumenta il potere d'acquisto, ma si mantiene la situazione attuale. Questo va chiarito perché nel caso in cui il governo non mettesse le risorse per diminuire la pressione, come capita quest'anno, dal mese di luglio al mese di dicembre, di sette punti sui salari fino a 25.000 e 35.000 euro lordi annui, il risultato sarebbe quello di impoverire i salari, di abbassare i salari, non di aumentarli. Il terzo punto è sicuramente quello del salario minimo. È una discussione complessa, io credo che il salario minimo sia utile. Intanto un primo passo che il governo potrebbe compiere a costo zero è quello di recepire per legge, quindi dare un minimo di legge a tutti i contratti maggiormente rappresentativi categoria per categoria, per poi avviare un confronto con le parti sociali per fissare una soglia minima al di sotto della quale non si può avere un salario soglia che ovviamente a seconda delle diverse situazioni potrà essere raggiunta con le necessarie gradualità e con le compatibilità di costo. Se si muove la situazione contemporaneamente per potenziare la contrattazione da una parte, per mantenere la diminuzione della pressione fiscale sulle buste paga e si avvia una discussione sul salario minimo, possiamo dire che si compiono i passi necessari per intervenire su un punto strategico, cruciale, che sta a cuore a milioni di lavoratori e di famiglie, quello del potere d'acquisto purtroppo diminuito in questi anni e soprattutto che oggi è attaccato da un'inflazione al di sopra di quella che era la norma alla quale eravamo abituati. Segnali di vitalità dal mondo del lavoro in Italia. Nel secondo semestre, secondo i dati Istat, gli occupati aumentano di 129 mila unità rispetto ai tre mesi precedenti a seguito della crescita dei dipendenti a tempo indeterminato e degli indipendenti che ha più che compensato il calo dei dipendenti a termine. Al contempo diminuiscono sia i disoccupati, meno 64 mila, sia gli inattivi di 15-64 anni. I tassi presentano una dinamica simile, quello di occupazione sale al 61,3%, quello di disoccupazione scende al 7,6%, giù di tre decimi di punto. Nei dati provvisori del mese di luglio si registra rispetto a giugno la diminuzione degli occupati e la crescita dei disoccupati e degli inattivi. L'occupazione nel secondo trimestre 2023 cresce anche in termini tendenziali, più 395 mila unità, pari all'1,7% in un anno. Dal lato delle imprese si osserva un lieve rallentamento della crescita delle posizioni lavorative dipendenti, scendono di quasi il 2% le ore lavorate per dipendente, mentre il ricorso alla cassa integrazione si riduce a 6,7 ore ogni mille ore lavorate. Crescono di più e sono più fiduciose per il futuro. È il ritratto delle imprese guidate da giovani, tracciato dal Centro Studi Italia Carne, confrontando le loro aspettative di crescita per il 2023 con quelle delle aziende over 35. Emerge che la metà prevede per quest'anno di aumentare il fatturato contro il 42% delle non giovanili. E anche per il 2024 le attese di crescita restano positive per il 43% contro il 34% delle imprese sul mercato da più tempo. In aumento pure le previsioni occupazionali per il 30% delle imprese capitanate dai giovani per il 2023 contro il 23% dei colleghi più maturi. Tuttavia in termini di export le imprese giovanili mostrano un ritardo rispetto a quelle sul mercato da più tempo. Il 38% delle aziende under 35 esporterà nel 2023 a fronte del 45% delle non giovanili. E per il prossimo anno, pur se la presenza degli imprenditori giovani sui mercati stranieri è attesa in aumento, la distanza generazionale all'estero resterà inalterata di 7 punti percentuali. Ma al sud la presenza delle imprese under 35 sui mercati esteri è ancora più bassa. Nel 2023 esporterà solo una su quattro e nel 2024 crescerà di appena due punti percentuali.